attenzione siamo carichi siamo qui trasferimento verso andalo si pedala let's go luca zio boh o questo è un po bagnaticcio però lui prende quella linea io prendo questa scusate ma non parlo tanto perché comunque c'è un po da concentrarsi perché qua non si scherza non si scherza per niente questo prendo anch'io questa linea qua anche se non è il top però spacca molto scassata un po tipo sassaia monteduro ma spacca via zio porc attenzione ciao figa io vado di qua o ciao 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 grande frate guardate che cazzo di panorama c'è ma dove cazzo ci va o cazzo immanuel attenzione attenzione c'è stato un cambio perché il cambio del cambio abbiamo dato il corcellino grazie vai vai luca vai vai oh wow 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ragazzi si sale. Lago di Molveno di là. Sfiga totale per Luca. Perché allora prima cosa ha rotto il cambio. Non si può più cambiare. La catena è ferma così e fine. Seconda cosa ha bucato. Mola, Mola! Mola, Mola! Mola, Mola! Mola, Mola! Mola, Mola! Ecco perché c'erano tutti i trucchi. Salve. Salve.